buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con l'opinione di Marcotti diamo il benvenuto naturalmente al nostro esperto buongiorno Giancarlo grazie come sempre per la tua disponibilità tra i tuoi giudizi noi questa volta affrontiamo un tema che all'apparenza potrebbe risultare lontano dalla nostra quotidianità e che invece ha delle ripercussioni nella vita di tutti i giorni di noi cittadini sto parlando della situazione di evito pubblico e in particolare della decisione appena presa dall'agenzia Moody's che ha confermato la fiducia dei mercati italiani in particolare l'agenzia ha chi non lo sapesse ha confermato il rating dell'Italia e alzato l'outbook da negativo a stabile scongiurando così il rischio di una valutazione negativa che avrebbe portato l'Italia verso il cosiddetto junk letteralmente spazzatura. L'agenzia nelle prospettive breve termine dell'Italia ha evidenziato un miglioramento della situazione legata all'attuazione del PNRR ma anche a un generale significativo anzi miglioramento del settore bancario e in più insomma ha ricordato che i rischi sono calati, sono diminuiti anche i rischi particolari legati alle forniture energetiche sono diminuiti per merito di un inverno quello passato che ci ha regalato delle temperature più o meno miti. In tutta questa situazione di generale miglioramento c'è un però in quanto l'agenzia ha comunque rilevato dei livelli di debito alti e conseguentemente l'esigenza di un calo del deficit che per il 2024 Moody's stima sarà pari al 4,4% del PNRR. E quindi ecco se questo è un po' il contesto generale, la situazione nella quale ci troviamo, per prima cosa Giancarlo vorrei sapere cosa ne pensi della decisione di Moody's e quali ripercussioni può avere in generale per l'Italia e di conseguenza anche per noi. Chiaramente abbiamo ricevuto questa conferma da Moody's e questo ci ha tranquillizzato, qualche timore c'era ma soprattutto perché Moody's ci collocava già sull'ultimo gradino del cosiddetto investment grade e sappiamo che molti fondi di investimento hanno proprio nella loro caratteristica quella di investire soltanto in aziende o stati come in questo caso e quindi titoli del debito pubblico che siano investment grade. Quindi un'eventuale bocciatura per noi sarebbe stata veramente una disdetta. Tuttavia diciamo che le previsioni erano poi per quello che poi è accaduto, cioè per un mantenimento del rating BAA3 al quale ci collocava Moody's anche perché le altre società di rating, ecco ricordiamo che Moody's è la principale ma non è l'unica, le altre società di rating già ci attribuiscono un gradino sopra il rating di Moody's e in più si erano già espresse per non variarlo, quindi era diciamo abbastanza prevedibile che Moody's si adeguasse, così come era abbastanza prevedibile che questi fossero le motivazioni per aumentare come hai detto giustamente tu, l'outlook, cioè queste previsioni per il futuro, diciamo l'outlook è una tendenza, ecco avevamo negativo quindi era abbastanza preoccupante cioè la tendenza era il peggioramento, adesso stabile quindi è qualche cosa, insomma abbiamo, non dico una promozione ma una mezza promozione la possiamo chiamare poi il problema che naturalmente ci viene sollevato ogni volta perché ricordiamo che purtroppo il nostro paese fra i 27 paesi dell'Unione Europea è quello che ha il maggior debito pubblico in rapporto al PIL dopo la Grecia ed è soprattutto, questo è ancora peggio, il paese che paga maggiormente interessi sul proprio debito pubblico e quindi ovviamente la soluzione sarebbe ridurre questo debito pubblico però un conto è dirlo, un conto è farlo, ridurre il debito pubblico significa fare sacrifici ovviamente, no? significa incassare di più di quanto si spende e quindi chiaramente non è una cosa che si può prendere a cuore leggero è vero che anche quest'anno con ogni probabilità noi sforeremo quel rapporto deficit PIL che naturalmente i trattati di Maastricht ricorderanno tutti lo portava al 3% quindi sforeremo ancora questo 3% quindi purtroppo aumenteremo ancora il nostro debito pubblico speriamo che invece dal 2004 ci possa essere un'inversione di tendenza anche se naturalmente è difficile che si potrà cambiare notevolmente la strada che abbiamo imboccato oramai da decenni perché il problema dell'Italia non è solo di avere un debito pubblico è che naturalmente pesando sempre di più gli interessi soprattutto con l'aumento fatto dalla banca centrale è sempre più difficile siamo arrivati quasi praticamente a 100 miliardi di interessi sul debito pubblico quindi insomma è una cifra decisamente consistente all'incirca il 20% delle nostre entrate quindi questo è l'aspetto che Moody's ci sottolinea ma è l'aspetto che noi sappiamo perfettamente che è il tallone d'Achile del nostro paese insomma questo debito pubblico tuttavia vedremo insomma nei prossimi anni se riusciremo in questa in quest'opera diciamo di riduzione del debito pubblico cosa non facile per nessun governo perché insomma è chiaramente si perde in popolarità e sappiamo che ai politici se diminuisce la loro popolarità hanno difficoltà quindi vabbè stiamo a vedere comunque perlomeno ecco tornando a concludendo il mio intervento perlomeno Moody's non ci ha fatto un brutto scherzo insomma non ci ha proprio promosso ma quasi e di conseguenza per il momento insomma accettiamo con con favore questo questo giudizio io mi rifaccio a una tua osservazione in particolare hai giustamente sottolineato che il debito pubblico è il tallone d'Achile del nostro paese e quindi mi metto un po' nei panni di molti cittadini e è della preoccupazione più o meno dilagante legata proprio al debito pubblico italiano c'è chi in qualche modo manifesta una sorta di allarmismo e allora ti chiedo dobbiamo davvero essere preoccupati c'è davvero da temere quasi una catastrofe verso la quale l'Italia è destinata ad andare incontro una situazione di default o insomma possiamo tirare un sospiro di sollievo? proprio un sospiro di sollievo? magari no però naturalmente neanche la catastrofe non parlerei di default per l'Italia semplicemente perché dall'altra parte della medaglia abbiamo invece come popolazione siamo una popolazione di risparmiatori per cui il credito delle famiglie italiane cioè è rilevante quindi è vero questo viene sempre fatto notare però insomma bisogna fare un ragionamento un po' più compiuto cioè io ho un debito di 100 però in banca ho 200 e dico sono tranquillo certo sono tranquillo però devo sapere che nella realtà in banca non ho 200 ho 100 perché il debito prima o poi lo dovrò saldare quindi questa è la cosa che insomma bisogna sempre tenere presente dire che gli italiani essendo dei risparmiatori insomma hanno sui loro conti correnti sui loro investimenti insomma un patrimonio molto superiore a quello che è il debito pubblico è vero però attenzione tanto il patrimonio in capo agli italiani è principalmente dovuto alla questione immobiliare cioè gli italiani è un loro pregio non voglio sminuire però gli italiani sono il popolo in Europa la popolazione in Europa che maggiormente è proprietaria dell'immobile nel quale vive quindi gli italiani sono proprietari delle loro case o comunque insomma naturalmente non tutti ma in larga parte però attenzione è chiaro che se io dovessi diminuire il debito pubblico e quindi chiedessi dei sacrifici agli italiani non gli posso chiedere il sacrificio di vendere la casa insomma lo considerare è un sacrificio un po' eccessivo di conseguenza teniamo sempre presente questo fatto cioè non culiamoci sugli allori siamo un popolo di risparmiatori abbiamo un risparmio privato molto alto e così via perché perché abbiamo anche un debito pubblico anche un debito pubblico molto alto e i debiti prima o poi vanno pagati perché altrimenti diventano talmente grandi che poi diventano impagabili e quando diventano impagabili ovviamente la situazione degenera non siamo ancora a quel livello adesso non voglio allarmare nessuno non siamo a livello della Grecia del 2011 per dire che ricorderete purtroppo dovete dichiarare almeno in parte default insomma non siamo assolutamente in quelle in quelle condizioni e non lo saremo probabilmente per i prossimi anni però il problema debito pubblico è un problema che va affrontato questo di sicuro perfetto sì ma aggiungo solo che effettivamente poi in qualche modo tutti i nodi vengono al pettine quindi anche la questione debito come giustamente sottolineavi quando ci sono in qualche modo bisogna inevitabilmente proprio poi scontrarsi e doverli doverli pagare di soluzioni alternative è difficile poterle individuare e allora io mi mi collego ancora a questa osservazione perché se la situazione attuale e probabilmente anche pura almeno nel nel più breve termine si si prospetta stabile io volevo sapere da te qual è il giudizio sul lavoro che in questo anno poco più ha del governo Meloni insomma il giudizio sul lavoro della Presidente del Consiglio e insomma in generale anche cosa pensi degli attacchi che invece inevitabilmente poi nel gioco della politica è parte integrante riceve ha ricevuto e continua a ricevere dalle opposizioni naturalmente io mi limito un po' a guardare l'aspetto economico e quindi dare un giudizio dal punto di vista economico su altre cose magari evito di fare delle considerazioni allora il problema del governo Meloni è che ereditava una situazione per nulla piacevole diciamo perché soprattutto per due aspetti è saltato fuori in tutta la sua gravità il problema super bonus cioè abbiamo capito che quella legge c'è costata cara carissima ovviamente il governo Meloni ha dovuto mettere una toppa ma è una toppa cioè non è una soluzione definitiva quindi sì abbiamo trovato usiamo questa metafora la falla e l'abbiamo chiusa ma adesso dobbiamo ancora lavorare insomma quindi per anni purtroppo il super bonus peserà sulle casse pubbliche il secondo aspetto forse ancora peggiore è questo lo sappiamo tutti l'aumento dei tassi di interesse per stati come appunto il nostro con un debito elevato questo aumento dei tassi di interesse deciso dalla BCE naturalmente deciso per combattere l'inflazione che fosse è stato repentino e insomma consistente siamo passati dai tassi a zero al 4,5% quindi in pochissimo tempo in un anno praticamente quindi una situazione chiaramente preoccupante era quella dell'inflazione che aveva superato la doppia cifra quindi si doveva intervenire non dico di no però è chiaro che così per gli stati indebitati gli interessi sono schizzati in alto tra l'altro ecco non solo per gli stati ricordiamo sempre che abbiamo detto che gli italiani sono in gran parte proprietari di casa ma ci sono anche molti italiani che stanno tuttora pagando il mutuo e quindi loro se hanno un mutuo a tasso variabile se ne accorgono e come di quanto è aumentata la rata quindi i tassi di interesse aumentati il bonus è chiaramente queste due erano due macigni per cui il povero Giorgetti uso il termine povero naturalmente con il quale condivido ecco l'omonimia sul nome ma il povero Giorgetti si è trovato quindi di fronte ad una situazione che insomma non era agevole in più non poteva non confermare il taglio del cuneo fiscale quindi tra aumento dei tassi super bonus e mantenimento del cuneo fiscale è chiaro che poi restavano le brecciole quindi questa è la mia opinione darei la sufficienza per quanto riguarda l'aspetto economico ripeto in altri campi sociali eccetera magari non entro ma per quanto riguarda l'aspetto economico darei la sufficienza al governo ripeto soprattutto perché ereditava una situazione abbastanza pesante anzi direi pesante e naturalmente lo aspettiamo anche per il 2024 per il 2025 è chiaro che un governo vuole sempre arrivare alla scadenza naturale insomma della legislatura quindi vedremo gli anni prossimi tra l'altro ecco faccio anche questa precisazione io dico purtroppo perché anche quello peserà dal primo gennaio ritornerà il patto di stabilità e anche se non si è ancora deciso con certezza quali saranno le misure intraprese però anche quello andrà ovviamente a pesare e quindi ritorno a dire il povero Giorgetti anche l'anno prossimo si troverà di fronte a una situazione non facile da risolvere ecco e a proposito di 2024 2025 nella speranza che Giorgetti e tutto il gruppo al governo possa veramente dare quella stabilità affrontare al meglio delle situazioni senz'altro complesse anche alla luce come giustamente sottolineavi di quanto ereditato perché poi inevitabilmente ci si trova a confrontarsi con delle situazioni già aperte e e laddove ci sono dei problemi quelli vanno risolti però nel frattempo se ne aggiungono altri quindi insomma la macchina governativa senz'altro anche dal punto di vista economico non è non è semplice non è così immediata lettura e dicevamo a proposito di duemila e ventiquattro duemila e venticinque io vorrei concludere chiedendoti a proposito di debito pubblico e anche alla luce della decisione di Moody's quali sono secondo te le prospettive future cosa dobbiamo aspettarci che situazione ci sarà come si evolverà il tutto allora una indicazione l'abbiamo avuta proprio in questi giorni cioè come è noto qualsiasi manovra quindi quelle che chiameremo leggi di bilancio devono essere approvate dall'Unione Europea dovevamo appunto come tutti gli altri paesi così avere il giudizio dell'Unione Europea dei 27 stati ci sono degli stati che sono stati promossi degli stati che sono stati bocciati e degli stati usiamo questa cosa un po' così simpatica che sono stati rimandati non a settembre ma a giugno perché saranno cioè il giudizio definitivo dell'Unione Europea arriverà a giugno però in questo momento l'Unione Europea ha già scritto sulla lavagna i buoni i cattivi e diciamo quelli che stanno in mezzo tra i due allora l'Italia dove si è collocata si è collocata in mezzo cioè non è tra le manovre promosse ma non è neanche tra le manovre bocciate è una manovra in cui l'Unione Europea ci dice potete fare un po' di più insomma queste cose qua e quindi insomma non è un giudizio negativo quello che è arrivato da Bruxelles attenzione poi che nella nostra categoria cioè in quelli non promossi ma non bocciati chiamiamoli rimandati guardate che siamo in ottima compagnia perché con noi c'è la Germania l'Olanda e l'Austria che sono tre stati normalmente considerati frugali insomma quelli abituati ad essere sempre promossi a pieni voti quindi quest'anno anche loro non sono stati promossi e quindi insomma rientrano tra i rimandati ma attenzione uno stato come la Francia rientra invece tra i bocciati questo è un altro aspetto quindi insomma mi hai fatto questa domanda cosa prevedo nel 2024 io spero che il nostro cioè la nostra Italia si dimostri insomma per quella che è un paese laborioso un paese con appunto che si fonda sulla piccola impresa ma la piccola impresa che lavora tanto la piccola impresa che si sveglia presto la mattina e che va a letto la sera tardi quindi io sono convinto che è fiducioso che l'Italia possa ancora insomma dimostrarsi uno dei paesi più importanti dal punto di vista economico insomma non siamo più al quinto al sesto posto siamo un po' scesi però insomma restiamo sempre certamente entro i primi dieci paesi al mondo quindi mi auguro che il 2024 sia un anno insomma nel quale possiamo possiamo vedere un po' una ripresa ecco dopo gli anni della della pandemia già il 2023 chiariamo non è stato male se poi guardiamo la nostra borsa è stato un anno eccellente insomma però speriamo che il 2024 sia ancora migliore ecco ovviamente ce lo auguriamo anche noi non possiamo che sperare augurarci che veramente la situazione possa solo che migliorare anche perché come detto inizialmente discorsi che all'apparenza possono sembrare quasi astratti difficili da toccare con mano hanno in realtà delle ripercussioni concrete nella vita di tutti noi e giustamente l'Italia è un paese molto laborioso ma è anche giusto che poi tutti i lavoratori possano raccogliere i frutti di questi sacrifici dell'alzarsi presto la mattina come ricordavi dell'andare a letto tardi la sera quindi mi unisco al tuo auspicio e penso che un po' tutti gli italiani possano concordare io Giancarlo ti ringrazio grazie a te Asia e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori